Buonasera a tutte, barrette e barrettine. Allora, vi facciamo vedere cosa ha ricevuto Bianca oggi la nostra amichetta, la nostra amica Marta, le ha regalato questo giochino e serve per creare lucida labbra. Ora vi faremo vedere come li creiamo, vero Bianca? Sì, a dopo! Ciao! Allora, ragazzi, questo è tutto l'occorrente per creare i nostri lip gloss. Guardate cosa abbiamo trovato. Allora, intanto il libretto, diciamo, di istruzioni dove ci spiegano come crearli. Due barattolini, poi abbiamo cera d'api sintetica, burro di cacao in goccia, olio di cocco, colorante, e questo è l'oruro di sodio. Vediamo un po'. Allora, ragazzi, ci serve la cera da piscaglie. Tienilo bene, Bianca. Cera da piscaglie. Abbiamo il nostro pentolino. Dei giochi? Sì. Cera da piscaglie. Poi abbiamo detto burro di cacao. Tieni, me lo ho, Bianca. Burro di cacao. Vai. E lo abbiamo qui. Tienilo. Spera, mi hanno tipo quei cioccolatini a forma di questa pallina. Sì, mi viene la collina in bocca. Sembra tipo cioccolato bianco. Sì, sì, mi viene la collina in bocca. Burro di cacao. E poi, olio di cocco. Olio di cocco, buono. Tienimi questo, Bianca. Buono, fai una torre di cocco. Tienilo bene con due mani. Tieniamo un po'. Wow. Mi adorare. Avvicinamelo. Avvicinamelo. Odora. Ah, salto il po' di cocco. E lo mettiamo qui. Ok. E ci siamo. Ora dobbiamo andare in microonde, farlo sciogliere per 30 secondi. E vediamo il nostro... Ah, e poi dobbiamo aggiungere il colorante che è lì. Andiamo. Allora, barretto e barrettino. E questo è il risultato di questi tre ingredienti sciolti. Abbiamo aggiunto un po' di colorante. Adesso le indicazioni ci dicono di mettere... Di versare il liquido nel vasetto. E aspettare 10-15 minuti per farlo raffreddare e diventare, diciamo, solido. Vi facciamo vedere. Allora, ragazzi. Questo è il risultato finale. Bianca lo sta provando. Vediamo. Ho le labbra molto bellissime. Fai così? Eh no, però toglilo col pezzettone che è sopra. Vediamo, fai così. Bellissimo. È proprio un burro cacao stupendo. Molto bello. Va bene, barrette e barrettine. Noi vi salutiamo e vi mandiamo un bacio grande, grande. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale, attivate la campbellina e mettete un like. Un bacione a tutti. Buonanotte.